playoff playoff delusi si vabbè chiaramente sapevamo che sarebbe stata comunque una partita difficile perché avremmo dovuto affrontare una delle squadre che avevano vinto il proprio girone e il Bordenone si è dimostrato sicuramente una gran bella squadra però il ramarico è quello che forse non siamo riusciti ad esprimere il meglio di noi stessi e forse nemmeno ad avvicinarci alla squadra che aveva terminato il campionato dicendo a raggiungere il quarto posto quindi c'è la possibilità di fare bene nella partita di ritorno anche se non servirà per la qualificazione ma cercando di andare su e fare il risultato positivo tanto quello che è di buono è quello che sei riuscito a costruire nell'arco di quest'annata no io credo che loro debbano essere orgogliosi di quello che hanno fatto fra le mille difficoltà e probabilmente mille sono anche poche è chiaro che dispiace lasciare il campionato con una partita come abbiamo fatto domenica scorsa ecco perché ci deve essere la voglia di andare su e dimostrare che probabilmente il Bordenone è più forte di noi ma non così come ha dimostrato domenica scorsa tanti ragazzi stanno ultimando la fase di riscaldamento sì, riscaldamento a piacere ma credo che adesso siamo arrivati alla fine della stagione sono stanchi effettivamente anche loro quindi magari lasciamo un pochino più di briglia sciolta pensi di cambiare qualcosa questa gara di ritorno? sicuramente cambieremo qualcosa non so se l'assetto tattico sicuramente cambieremo l'organico della formazione perché credo che sia giusto poi dare qualche altra possibilità a qualche ragazzo che magari domenica non è stato impiegato oppure è stato impiegato parzialmente però mantenendo una squadra che andrà in campo decisa concentrata e battagliera per fare la sua partita grazie 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 grazie